...lecchio Langirano per il lavoro di mio padre, ero spesso qui per cui al ritorno, non dico alle origini, però al ritorno dove ho trascorso gran parte del mio tempo. Per cui per me è un grande privilegio, ringrazio il Parma che mi ha dato questa opportunità e adesso devo dare ovviamente il benvenuto alle autorità, ai dirigenti, agli sponsor, ai tifosi, ai giocatori, a tutta la squadra. Benvenuti qui alla Villa del Ferlaro, una villa che risale addirittura al 1821. Sapete che quando ci sono i grandi eventi è bello essere in una bella location, no? Questa è particolarissima. Come sono arrivato qui per l'ultimente Villa Bosco Grande, che è in Sicilia, dove Lucchino Visconti girò il Gattopardo. Ecco, qui non si gira quel film, ma si gira qualcosa di altrettanto importante. Guardate dunque il benvenuto a tutti e sapete che questa nuova sede verrà praticamente trasportata dove esiste già il centro tecnico del Parma, non è che viene trasportata perché non ci sono questi potenti mezzi per trasportare una location, ma praticamente verrà edificata e snorre tutto su due strutture per cui ci sarà una convivenza tra ciò che è la parte dirigenziale, strutturale, organizzativa e la parte tecnica, ovviamente per quanto concerne i giocatori, la squadra, perché ho saputo che ci saranno anche delle camere dove i giocatori trascorreranno i lunghi ritiri pre-partita. Detto questo io inizierei con la presentazione di coloro che interverranno, per cui subito la parola all'amministratore delegato Pietro Donato.